Il design se ne parla tanto in questi anni, io trovo divertente dire che il design potrebbe anche essere niente. Ora io non accetto, si possa dire, che a partire dagli anni 30 o 20 disegnare una sedia significhi fare del design, mentre disegnare la prima significasse soltanto disegnare una sedia. Non credo quindi che si possa teorizzare una disciplina speciale, qualcosa di nuovo che sarebbe nato soltanto nei decenni più recenti, comparendo sul mondo dal nulla. Giustificato, qualcuno ritiene, dalla introduzione delle tecnologie industriali, in ogni epoca si produce con i mezzi che si hanno a disposizione. Quindi noi continuiamo a disegnare, come l'uomo ha sempre fatto, tutto quanto ci serve per vivere nel nostro ambiente. Nel caso di questa sedia ricordo di aver tentato di disegnare usando materiali molto innovativi con la speranza di ottenere un'immagine nuova e ho detto proviamo a ripartire da zero. Una sedia è prima di tutto una sedia e ricordo di aver tracciato con le mie mani su un foglio di carta bianca proprio il segno che simboleggia la sedia anche quando si chiede a un bambino di disegnare una sedia. Me la sono trovata davanti e poi ho detto adesso cosa facciamo, come fa a diventare una sedia? E ho pensato alle selle delle biciclette, che sono una strutturina di acciaio con una sella di cuoio in sostanza. Dopo lungo studio e lunghe ricerche siamo arrivati a una sede che è circa questa, la sedia in cuoio, che adesso è imitata da moltissimi produttori. In questo caso quindi il comitente non aveva in nessun modo suggerito l'utilizzo o l'impiego o richiesto l'impiego di un certo materiale, ma è nato da questo strano processo che ho raccontato. Possiamo fare anche un caso opposto naturalmente, perché non sempre va tutto così. Alan Heller, che è un produttore di oggetti per l'arredamento, mi chiese di disegnare una sedia in materiale plastico usando una particolare tecnologia che è quella dello stampaggio di plastica con l'aiuto di pressione di gas. Questo è un caso in cui è nata una sedia, sempre io credo interessante, ma a partire dalla richiesta precisa dell'impiego di una certa tecnologia. Tra questi due estremi ci sono le infinite sfumature dei casi che si vivono disegnando oggetti e su pellettili, per cui il ruolo dei materiali, del comitente, della creatività, eccetera, si mischiano in modi più diversi. E questo è il bello di questa attività. Se io non avessi fatto il designer, avrei certamente fatto l'architetto. Dopo quasi due decenni o quindici anni di attività come designer nei campi più diversi, ho sentito il bisogno irrefrenabile di cominciare a fare l'architettura, essendomi io laureato in architettura a Milano. Ma se non avessi fatto neanche l'architetto, forse mi sarebbe piaciuto fare lo scrittore, più precisamente magari il poeta. Mi sono sorpreso talvolta a scrivere qualche poesia quando ero più giovane e quando mi è richiesto di scrivere provo un piacere particolare nell'immaginare le frasi, nel limare quello che sto dicendo, esattamente come si fa quando si disegna un'architettura però si disegna un oggetto. Grazie.